Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi del tablet Huawei MediaPad T5 che potete acquistare su Amazon ad un costo di 200-300€, a seconda ovviamente della versione che decidete di acquistare. Si tratta di un tablet di fascia medio-bassa e come ogni tablet di fascia medio-bassa non aspettatevi elevate prestazioni in gioco. Diciamo che io ho acquistato questo tablet perché ero alla ricerca appunto di un tablet per il gaming. Avendo come smartphone il Note 10 Plus che è il top di gamma, come smartphone o meglio uno dei top di gamma soprattutto per il gaming, avevo bisogno di un tablet per avere un display più grande perché diciamo con lo smartphone giocare non è molto comodo, soprattutto nei giochi landscape, ossia quelli orizzontali. Quindi dovrei collegare lo smartphone alla TV eccetera eccetera. Quindi ho acquistato questo tablet più che altro per il gaming. Ora vi darò le mie impressioni. Naturalmente, come dice il detto, più spendete meglio avete. In questo caso, diciamo, spendendo 200-300€ avrete un tablet di quella cifra. Per navigare è ottimo, molto molto veloce, come potete vedere nella navigazione, nell'apertura delle pagine. Insomma, per navigare è veramente il massimo. Soprattutto se collegate poi una tastiera fisica tramite quelle cover che vendono appunto su Amazon, che permettono di trasformare il tablet in un computer portatile. Quindi come navigazione, assolutamente promosso. Come audio, insomma, come audio si poteva fare sicuramente qualcosa di meglio. Adesso vi do una dimostrazione al massimo volume. Come avete udito, l'audio è accettabile, ma non elevato. Non aspettatevi un audio eccellente, anche se dispone di diverse casse, diversi speaker. Insomma, l'audio non è proprio elevatissimo come volume, come qualità, però è accettabile. Per quanto riguarda la fotocamera, ovviamente, insomma, io sono dell'idea che non si acquisti un tablet per fare delle fotografie. Infatti, come vedete, insomma, la fotocamera non è proprio il massimo, dai. Non è proprio il massimo. Quindi, diciamo, io ho la boccia a priori la fotocamera del tablet, perché, insomma, può accompagnare solo, come si suol dire. Insomma, c'è, ok, ma... Insomma, non è proprio il massimo. Quindi, come fotocamera, sinceramente, lascia molto a desiderare. Come vi ho detto prima, insomma, io non acquisterei mai un tablet per la fotocamera, ma ho lo smartphone, quindi, diciamo, non la considero a priori. Lo schermo è da 10.1 pollici, risoluzione 1080p, full HD, 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM, sistema operativo Android 8 con EMUI 8.0. Ora, Huawei aveva detto che l'avrebbe aggiornato a Android 9, quindi l'EMUI 9, ma, sinceramente, a distanza di 6 mesi barra un anno, da quando è stato commercializzato, non ho ancora visto questo aggiornamento, anche se l'ho acquistato di recente, e l'ho aggiornato alla versione 8, perché aveva la versione 7, se non ricordo male. Quindi, diciamo, considerando che siamo quasi ad Android 11, è un tablet abbastanza da dato come supporto per quanto riguarda il sistema operativo. Per il gioco, come si comporta? Ora, io ho acquistato questo tablet, come vi ho anticipato, per giocare. Come si comporta con il gaming? Ora, vi sono sostanzialmente due tipologie di gioco. Abbiamo il gioco pesante, quindi tipo uno sparatutto come questo, se non ricordo male, si chiama War... o qualcosa, non mi ricordo bene. War... no, Warzone e Call of Duty, non mi ricordo, ragazzi, scusate. Ma c'è uno sparatutto che è abbastanza pesantino. Infatti, provando a lanciarlo, potevo scegliere sia la risoluzione, sia gli FPS, e come risoluzione era veramente bassa, potevo metterla anche elevata, ma più andavo in qualità grafica e più peggioravo in FPS. Quindi, diciamo, se acquistate questo tablet, alcuni FPS o giochi di guida, diciamo, sono, insomma, non tanto accettabili graficamente, o come risoluzione, o come FPS. Quindi, magari avete un gioco di corse che è bello da vedere, ma ci sono cali di framerate allucinanti, oppure giochi che hanno un frame fluido, ma una grafica pessima. Insomma, per giochi più elaborati, tipo Sky pure, che ho ottimizzato veramente malissimo per questo tablet, non aspettatevi grandi prestazioni. Infatti, se acquistate questo tablet perché volete giocare ad un FPS, tipo Call of Duty, cose del genere, insomma, non aspettatevi grandi risultati, ma se acquistate questo tablet per i giochini tipo Clash Royale e compagnia bella, insomma, funziona molto molto bene. Quindi, diciamo, quando acquistate questo tablet, tenete bene a mente questo. che per tutti i giochi Android, tipo Angry Bird, come ho detto Clash Royale, Card Monsters, eccetera, eccetera, funziona benissimo, anche per il professor Layton. Ma per giochi tipo FPS, giochi di guida, non tutti, ovviamente, ma alcuni di essi funzionano veramente male. Infatti, diciamo, sono ingiocabili. Per questo motivo, se siete alla ricerca di un tablet da gaming con la G maiuscola, io vi consiglio di puntare il vostro sguardo e portafoglio altrove, perché, diciamo, è un ottimo tablet, assolutamente veloce, reattivo, come potete vedere, molto veloce, nell'utilizzo, nella navigazione, nella riproduzione di contenuti multimediali, nei giochetti, però non è il massimo per quanto riguarda giochi un po' più pesanti. Come sapete, di giochi pesanti su Android ce ne sono veramente tantissimi. Quindi, diciamo, ricapitolando, se avete intenzione di acquistare un tablet per il gaming, ma gaming serio, non vi consiglio di acquistare questo modello. Se invece vi accontentate di tutti i giochi nel Play Store, tranne quelli un po' più pesanti, siete alla ricerca di un tablet reattivo, veloce, ottimo per la navigazione, digitare test e quant'altro, ve lo consiglio, perché è veramente molto, molto comodo. Naturalmente, come ho detto, la fotocamera è pessima. Per quanto riguarda la custodia, ora, acquistando questo tablet, non avrete la custodia. Io ho acquistato questa custodia, come potete vedere, la classica custodia in silicone, che protegge veramente molto, molto bene. Infatti, è molto dura, anche se su Amazon c'era scritta che era morbida, ma è dura, vi posso assicurare che è dura, protegge benissimo. L'unico problema, ovviamente, come la maggior parte delle custodie, dure sono i tasti. Questi tasti che sono collocati da questa parte, che praticamente sono l'accensione e il volume, che poi sono stati collocati in un modo, diciamo, comodo se si usa il tablet in orizzontale, è scomodo se si usa in verticale, perché usando il tablet in questo modo, ce l'avete sotto, scusate, i pulsanti. Sono duri da premere, quindi quando dovete, tipo, aumentare il volume, vi farete venire la tendinite, ovviamente sto scherzando, ma comunque sono duri, ragazzi, vi posso assicurare che sono duri alla pressione, però protegge bene il tablet. È trasparente, ovviamente il silicone protegge bene, perché ha anche, insomma, come potete vedere, i fori nei punti giusti per gli speaker e quant'altro ancora. Diciamo, come tablet è accettabile, considerando che ha un costo di 200-300 euro. Ripeto, come fotocamera, pessimo, come reattività, ottimo, come giochetti, giochi di ogni tipo, tranne quelli un po' più pesanti, buono, comparto audio, buono, non ottimo, ma buono, navigazione, ottima, come avete visto, è veramente veloce. Quindi, ricapitolando, ha 4 GB di RAM, questo modello qui, che vi allego nella descrizione di questo video, sistema operativo Android 8, 64 GB di memoria interna, che possono essere estesi tramite le micro SD, che ovviamente sono vendute a parte, risoluzione HD, full HD, per quanto riguarda il display. Nelle impostazioni del tablet, purtroppo, non è presente la dark mode, perché ovviamente è arrivata dopo. Quindi, diciamo, se avete problemi con la vista, come nel mio caso, purtroppo, non potete attivare la modalità scura, almeno per quanto riguarda le impostazioni. Invece, ovviamente, in YouTube, Play Store, eccetera, eccetera, potete attivare, ovviamente, la modalità notte. Ma questa, diciamo, è una, tra virgolette, una bazzecola, non è una cosa proprio importantissima in un tablet. Quindi, diciamo, come potete vedere, è fluido anche nella modalità task manager. Inoltre, ci sono alcune applicazioni, che permettono la suddivisione dello schermo in più parti. Ora, non ricordo bene quali. Ecco, infatti, tipo YouTube, come potete vedere, di qui posso fare una cosa e di qui posso farne un'altra. Non tutte le applicazioni supportano questa modalità, ma è molto, molto simpatica, perché mentre magari siete su YouTube a vedere un video, potete qui fare qualche altra cosa, a patto che, naturalmente, l'applicazione venga supportata. Ora, come potete vedere, qui non ci sono tutte le applicazioni, ma ci sono solo quelle supportate. Quindi, ad esempio, di qui posso avere Google Chrome, con Touch Gaming, di qui posso avere YouTube. È davvero, davvero ottimo. Diciamo, questa funzionalità è veramente ottima. Non, diciamo, non c'è niente da ridire. È anche molto fluida, come potete vedere. Fluidissima. Quindi, veramente un ottimo tablet per poi quello che dovete fare. ripeto, se siete alla ricerca di un dispositivo per il gaming pesante, quindi un dispositivo che vi permetta di giocare a titoli seri, lasciate stare questo tablet. Se siete alla ricerca di un tablet che vi permetta di fare tutto ad un prezzo accettabile, allora vi consiglio l'acquisto. Nella descrizione del video vi allego il link per acquistare il tablet, il link per acquistare questa custodia e il link per acquistare la tastiera che non ho preso. Inoltre, voglio dirvi un'ultima cosa, per quanto riguarda il supporto dei controller, allora, con il controller Xbox One non ci sono problemi, funziona perfetto, anzi, vi dirò di più. Una volta che avete stabilito la connessione con il controller Xbox One, adesso lo prendo un attimo, vi faccio vedere, praticamente, accendendo il controller e tenendo premuto il tastino questo qui, abilitando il Bluetooth sopra, io posso stabilire la connessione con questo controller e di conseguenza posso giocare a tutti i titoli, praticamente, con il controller e lo rileva subito, però ho avuto problemi a rilevare altri controller. Non so perché, probabilmente non sono compatibili, ma io vi posso assicurare che il controller Xbox One funziona davvero bene. Come vedete, ha già fatto il pairing, come si dice, e funziona davvero bene. Come vedete, lo sto utilizzando adesso per spostarmi nel tablet. Non c'è trucco, non c'è inganno, come potete vedere. Quindi, diciamo, se avete un controller Xbox One, potete utilizzarlo magari anche con l'applicazione che è uscita di recente che permette, appunto, diciamo, di giocare in streaming come Stadia, ad esempio, Steam Link oppure la piattaforma Microsoft. poi ovviamente in queste tre piattaforme, in queste tre applicazioni la qualità dipende dalla vostra connessione e non dal tablet. Quindi, diciamo, se avete una buona connessione potete giocare tranquillamente con il controller Xbox One ai titoli appunto di Microsoft tramite questa applicazione che è presente nel Play Store. Quindi, ricapitolando, se siete interessati all'acquisto di questo tablet trovate tutto nella descrizione di questo video. Grazie a tutti.